Come di generazione in generazione si trasmette la vita, così attraverso la rinascita dal fonte battesimale si trasmette la grazia e con questa grazia il popolo cristiano cammina nel tempo, come un fiume che diffonde nel mondo la benedizione di Dio. Così oggi Papa Francesco, dedicando ancora una volta la Catechesi dell'Udienza Generale al Sacramento del Battesimo, il Pontefice ha chiarito inoltre che tutti siamo anelli di una catena e che tutti siamo chiamati a trasmettere la fede. Sono discepoli, i Vescovi sanno tutto, il Papa sa tutto, non è discepoli. Anche i Vescovi e il Papa devono essere discepoli, perché se non sono discepoli non fanno il bene, non possono essere missionari, non possono trasmettere la fede. Capito? Avete capito questo? È importante? Tutti noi, discepoli e missionari. Parlando alle migliaia di persone che si sono radunate in Piazza San Pietro, nonostante il freddo pungente, Papa Francesco ha poi sottolineato l'importanza del senso della comunità, dove i cristiani sperimentano la bellezza di condividere l'esperienza di un amore che ci precede tutti. Esemplare in questo contesto ha raccontato il Pontefice l'esperienza della comunità giapponese del XVIII secolo, La persecuzione, non di rado finita nel sangue, estinse i membri del clero e così per 250 anni i cristiani si ritirarono nella clandestinità, conservando la fede e la preghiera nel nascondimento.